La Toscana d'avvio allo screening di massa. Saranno infatti effettuati testa sierologici su 400.000 persone, includendo anche i lavoratori dei servizi essenziali rimasti aperti sin dall'11 marzo. È stato infatti il governatore Enrico Rossi ad annunciare l'accordo quadro con 61 laboratori privati che integrerà il lavoro già svolto dal Servizio Sanitario Regionale, impegnato in altri 140.000 testa riservati in via prioritaria ai lavoratori della sanità e agli ospiti e operatori della RSA, ai quali si aggiungono forze dell'ordine e volontari. Il primo blocco sarà esaurito entro la fine della prossima settimana, saranno poi sottoposti al testa cittadini e lavoratori, dando priorità a chi maggiormente è esposto al contatto con altre persone. Gli esami sierologici sono dei test che indagano sulla reazione dell'individuo alla gente che provoca il Covid-19, la patologia influenzale grave che caratterizza questa epidemia. E' ovvio che il test indaga proprio questa reazione che è costituita da due parti, con la produzione di anticorpi precoci, che non rappresentano la memoria di reazione dell'organismo nel futuro, ma è preliminare e sono gli anticorpi GA e IGM che poi saranno sostituiti dalle immunoglobline G o IGG, chiamate IGG che poi rappresenteranno la memoria permanente dell'individuo e quindi l'ipotetica difesa a questo virus permanente. L'accordo con i laboratori privati prevede che lo screening alle categorie previste in questo secondo blocco sia da loro svolto su indicazione della regione che fornirà ai privati che ritengono aderire a questa iniziativa almeno 250.000 testa sierologici a fronte della loro disponibilità ad effettuare almeno 10.000 testa al giorno. I laboratori privati potranno effettuare altri esami sierologici in forma privata a quei soggetti appartenenti alle categorie di filiera essenziale individuate dal decreto dell'11 marzo ad un costo complessivo di circa 25 euro. Tutti i dati dello studio epidemiologico verranno poi raccolti dalla regione e caricati su un'applicazione per studiare la diffusione del virus suddiviso per categorie di lavoratori.